Il tribunale più efficiente del centro-sud terzo in Italia rischia la paralisi. Parliamo del tribunale di Paola, che a causa delle dinamiche in uscita e in ingresso dei giudici può al momento trattare i soli affari civili, mentre per quelli penali siamo vicini appunto alla paralisi. Un problema che investe il vasto territorio, sono ben 32 i comuni che ricadono nel circondario e di conseguenza gli avvocati. Tra la sede centrale e quella distaccata di Scalea si rischia il congelamento di ben 3.000 processi penali. Di questa situazione, definita drammatica dagli addetti ai lavori, se ne stanno occupando da tempo il presidente della Corte d'Appello di Catanzaro Gianfranco Migliaccio, il presidente del tribunale di Paola Domenico Introcaso ed il presidente dell'ordine degli avvocati di Paola Vito Caldiero, che si sono rivolti nei giorni scorsi al Consiglio Superiore della Magistratura. La questione è squisitamente tecnica. L'avvocato Caldiero ha evidenziato che il CSM, nel consentire il trasferimento di ben 11 giudici con la prima valutazione professionale, avrebbe dovuto programmare l'ingresso di giudici con la medesima valutazione, anziché assegnare alla sede di Paola magistrati di prima nomina che per legge non possono trattare processi penali monocratici né esercitare funzioni di giudici per le indagini preliminari né quelle di giudici per le udienze preliminari. Oggi, fa presente Caldiero, tra i 386 tribunali d'Italia, quello di Paola ha la maggior scopertura di organico, pari al 69%, tanto che il caso è stato anche trattato nella relazione sullo Stato della Giustizia letta in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2011 dal Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro. Una situazione che non passerà inosservata presso la settima commissione del CSM, che ha comunque garantito il massimo impegno nel trovare una soluzione nei tempi più rapidi possibili.